E salve a tutti gente e bentornati qui a un nuovo episodio di The Wolf Among Us, yeah, episodio 2 tra l'altro, quindi andiamo avanti con la storia, con la storia che si chiama gioco di specchi, ecco, sarebbe questa la traduzione praticamente. Allora, sì, questi sono i caricamenti dell'altra volta, quindi c'eravamo lasciati con il fatto che Bianca Neve era morta, stecchita, tagliata a metà, la testa è volata, l'hanno messa lì, Bigby si è sbattuto altamente della polizia, quindi probabilmente è stato arrestato e quindi anche gli umani verranno mescolati in questa storia. La cosa mi emoziona assai, sono un fermento unico, non sto fermentando però, quindi non perdiamo anche tempo e cominciamo. Gioco di specchi, episodio 2 di The Wolf Among Us, yeah, vai, non vedo l'ora. Coraggio, vai, 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 vai. Sì, carica. Mr. Toad, cosa? Do something, Bigby, before he completely tears up the place. Ah, queste sono le puntate precedenti. D'accordo, ahia. Whoa, 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 hey, hey! You've got something on your face. What the fuck are you talking about, you stupid co... Hello? Oh, yeah! You're not as bad as everyone says you are. E soprattutto son gran figo. Promise me you won't tell Beast you saw me. Come no? Look, whatever it is, it's between you and Beast. I'm staying out of it. Esattamente. It's not what you might be thinking. Hai visto mia moglie? No. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? No, I haven't seen her. Esatto. Come with me. Ok. Oh, yeah! Ok, questo me lo ricordo, le puntate precedenti. Vabbè, potevo farlo. Don't interrupt me, Miss Snow! You asked me a question. Don't change the subject. You were to plead for this unpleasantness, Miss Snow. Col cavolo. No, I'm D. He's dumb. Davvero? But he said if Orderless ever got back to him, if he ever thought you knew, or Miss White, come back and kill one. Meh. I'm looking for the woodsman. Well, he's not here. Holly, you're out of paper towels and... They're gonna string me up. 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 You said it looks fucking bad. It looks really bad. But I didn't do it. All right. I got a hundred bucks for the first bloke that could tell me something about a girl name. Fuck, man! This fucking laugh bloke. Come slip it around this bloke now. Richie fucks have the words. Need to shake down. And they're right, Bigby. Now things are worse off than they've ever been. Well, that's not true. Right. We've had it worse, but not by much. Oh, my God. Oh, my God. You're finished in a movie of horror. Oh, yeah. He's in love with you. Oh, my God. He's crazy. He's killing someone. Bigby, calm down. Oh, my God. Mr. Wolf. Oh, yes. They're blocked, of course. You're making this more difficult than it has to be. If you just cooperate and answer the questions, you can go home. Maybe get some sleep. How are you feeling? Di merda. I know it's been a long night for you. You look like you could use some rest. I'll be better when I find who did this, which I can't do while sitting in here. We all want the same thing here, Bigby. Look, I know what you must be going through. Really, I do. But I could use your cooperation. You don't know anything. If you did, you wouldn't be sitting here talking to me. You'd be talking to the piece of shit that did this. Well, you stonewalling me like this isn't helping either of us, so why don't you cut the shit and... Si sta nervosendone? Ma poco. I'm trying to help you, Bigby. Col cazzo. Non mi sta aiutando una mazza. Vuoi sbattermi dentro e basta. Lo sappiamo tutti. No. No. È successo il mio cane. No, scherzo. Ok, beh. Bene, siamo in una stazione di polizia, quindi. Sì. Davvero? Che sta succedendo? Sta bene? Are you... ok? You don't look so good. Detective Branigan? I'm Detective Branigan. Uh, yeah. I know. I just said that. Is there something? No, es vardır. 有没有主 Searching Yeah. what is happening? Please Please che succede? Oh mio dio, che cavolo ? Uw Ah, I'm sorry. Just, I could start, please Oh mio dio, che diavolo? Chi, che, 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 che cazzo? Oh, oh, chi? Cosa? Che cazzo è successo? Ah, già è vero. Che cosa l'hai fatto? Che cosa hai fatto con lei? Sì, sarà bene. È solo un spettacolo di memoria, molto caro, ma funziona. Ah, ecco l'incantesimo. Beh, effettivamente non possiamo permettere che i terreni si mettano a frugare tra le cose delle fiabe. Quindi tanto vale andarsene. Mi dispiace signora, spero stia bene e non muoia. Beh, se ne sbatta. Bravo Bigby, era giusto togliere quella cosa, perché non sarebbe stato normale trovarsi una testa mozzata di una foto in una foto. Senza ricordare più per quale motivo era lì. Situazione molto... È uguale, grazie del salvatà, grazie del passaggio. Grazie per l'interno. Certamente. Come sarebbe a dire? Ha un fratello. Esatto. Vabbè, però c'è dietro qualcosa. Che diavolo, non rompere... Ah, mamma mia, che situazione. Finiremo una merda. No, non lo sai. Sei uno strusso. Ma se la strattavi malissimo. Cioè, la mandava a fanculo ogni dieci minuti. Secondo me... È una cosa che uno di noi morirà, e ora... O se fosse snow... Non ho mai stato buono con queste cose. È dura. Sì. È... È difficile. Di lui a me che lui era innamorato. Le nostre storie erano così semplici. Abbiamo avuto un inizio, un inizio e un inizio. Già. Eh, la vita non è una favola. Che ti devo dire? Oddio, che battutaccia. Era in una cazzo di... Eh, mi ha detto che deve fare attenzione. Ed era in un cazzo di... Era il taxista. Bigby. No. Non proprio. Più o meno... Credo. Davvero. È l'affezionata a me. Non lo dico da voi. Già. Già. Esatto. Oh, cazzo. Bigby è poco incazzato, ne? Siamo poco incazzati, ma poco. Ma poco proprio. Nel tipo che stiamo per far sparire qualcosa. Calmo, Bigby. Non andare in modalità isteria, per piacere. Che sei tu? Ah, è barbabu. Ah, è barbabu. Sì, come no. Mi ricorda Isaac. come no? non mi fredi perché eri da rospo? esatto, voglio sapere perché eri da rospo come no? esatto oh oh oh, cattivelia falli vedere la foto falli vedere la foto fallo, ah no, tu guardi la foto si invece la devi guardare questo potresti essere tu come la mettiamo? povera neve esatto a fondo di cosa, però già no no perché ho come la sensazione che tu mi stia... che cavolo era? ah, ok c'è di molto qui freghiamo il whisky di panko picco che può servireci se ci trasformiamo colpisci panko... offri da bere a panko picco? non sono brava a gestire un interrogatorio, mi sa forse dovevo colpirlo cosa stavi dicendo su questo? cosa stavi dicendo su questo? ok 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 esatto bravo, bravo, bravo sei uno psicopatico credo, ma credo sarei utile esatto osserva un momento il denaro oh oh mmm 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 Dio vorrei prenderli Dio qua Dio so che mi farà stare male, però vai chi se ne frega si era una prostituta cosa aveva rubato? cosa aveva rubato? oh come no come no come no come no ti farò parlare caro il mio panko picco panko picco sbagliato panko picco esatto ti farò parlare come tu canterai canterai ligno italiano o americano qualche re ho 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 this is really what's the point of this? boff here yeah alright want to see a trick cazzarola maledizione, non ha funzionato bella lascialo parlare non ha tutti i torti però esatto no oh fermatevi tutti casino porca miseria ma che diavolo porca miseria cosa che cosa che cazzo che cazzo come come oh ok ok beh doveva ritornare questo ne ero certo al cento per cento ah big b si rifà la strada che ha fatto l'ultima volta va bene oddio bella oh mio dio wow 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 smoke cosa cosa mi sta questo gioco lo sto adorando cosa pensi che stesse succedendo ti stavo cercando pensavo fossi morta esatto che cazzo è successo ci hai fatto spaventare ci hai fatto spaventare cazzo 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 dunque bene finiamola qui e ci rivediamo nella prossima parte di The Wolf Among Us in cui scopriremo cosa ha visto Reggie hanno trovato il corpo di fate a quanto pare e beh per fortuna Biancaneve non è morta yeah oh yeah bene gente ci rivediamo nella prossima parte yao